Spero che la diretta sia partita bene, che sia possibile sviluppare questo quartino in maniera tranquilla. La volta scorsa è stato veramente un grande problema. Presenti già alcuni grazie di questa fedeltà, di questa amicizia, anche di questa cordialità. Veramente sono contento di questo. Non so quanti quartini ancora in diretta faremo, naturalmente la speranza di farne pochi, farne magari l'ultimo, il prossimo, perché vuol dire che le cose stanno andando meglio e ci stiamo riprendendo. Vedo che ci sono anche persone legate ai misteri, ma un po' me l'aspettavo, sono contentissimo. Vi saluto perché stasera mi piacerebbe parlare un po' del senso chiaramente antropologico e teologico della processione dei misteri. Non mi addentro in questioni né troppo storiche perché non sono uno storico, quindi non sono un conoscitore della storia al punto da potermi permettere questo tipo di trattazione. Quindi farò un altro tipo di discorso. Non so se la diretta sta funzionando, io così dedico solo altri dieci secondi a questa interlocuzione. Non devo spiegare a nessuno il mio amore per i misteri, penso che sia chiaro. Ormai l'amore a volte non si deve chiacchierare, non si deve raccontare, si testimonia. Io penso di testimoniarlo attraverso la mia partecipazione in tutti i modi possibili a quello che è la preparazione, ma anche poi il momento dello svolgimento. Quest'anno purtroppo è andata così, come sappiamo. Ma appunto parlare dei misteri ci fa bene perché ci fa capire anche, soprattutto qui a Trapani, naturalmente, chi siamo. Perché la processione dei misteri da noi ha veramente un forte valore di identità. Io vorrei solo capire se c'è una sincronizzazione tra il mio movimento delle labbra e la mia voce, perché qui nel mio computer sono sfalsate, quindi è come se ci fosse un orologio, diciamo così, che funziona all'incontrario. Se mi dite che invece va bene, io comincio. Comunque, evidentemente non si deve mai stare tranquilli in queste dirette, ecco perché sono difficili da gestire, capite, anche su un piano emotivo. Allora, io comincio così. Ascoltate, ieri scese al Pireo con Glaucone, figlio di Aristone, per pregare la dea e nello stesso tempo per vedere come avrebbero celebrato la festa, dato che è la prima volta che la fanno. Mi sembrò davvero bella anche la processione della gente del posto, ma non appariva meno decorosa quella condotta dai traci. Sto praticamente iniziando la lettura con queste parole, niente di meno che della Repubblica di Platone. La Repubblica di Platone si apre con la processione della dea Bendis, in quelle che erano le Bendiadi, cioè una festa di Atene. Naturalmente c'erano tante feste, c'erano tante processioni ad Atene. Ricordiamo soprattutto le grandi e le piccole, ma soprattutto le grandi Dionisie, nel contesto delle quali poi si svolgevano le drammatizzazioni, le tragedie greche, che erano un evento religioso legato appunto al culto del dio Dioniso. Perché ho fatto questo esempio e sono partito da qui? Perché la processione di un'immagine di una statua è una costante antropologica, ecco perché merita sempre grande attenzione. Il portare in processione qualcosa ha un valore antropologico, cioè umano, che da sempre in tutte le culture si è fatto. Il piccolo testo che vi ho letto è praticamente di 2.500 anni fa. Perché è importante portare in processione qualcosa da cui tutti si identificano? Perché si sviluppa un doppio movimento. Uno potremmo dire sincronico, cioè nello stesso tempo tutti guardano la stessa cosa. E poi diacronico. Perché? Perché si cammina, passa il tempo. Questo trascorrere il tempo tutti guardando e vivendo la stessa cosa crea un senso di intimità, un senso di forza, un senso di energia, che penso tutti quelli che hanno partecipato alla processione dei misteri conoscono bene. Cioè dà un carattere di identità a un popolo fortissimo. Ecco perché le processioni sono veramente importanti. Naturalmente esistono anche le processioni laiche, potremmo dire i cortei. Anche queste hanno un valore e hanno un significato. Ma da sempre le processioni religiose hanno una caratura importante. Perché? Perché si caricano di valori, potremmo dire, che non sono immanenti, cioè legati alla storia di un dittatore, di una democrazia, di un sindacato, ma alla storia della propria anima, del proprio vissuto. Ecco normalmente le processioni religiose hanno un forte valore proprio di orientamento sul senso della vita, della malattia, della sofferenza, eccetera. Ecco che producono in questo grande incontro di popolo una forte carica emotiva, catartica. Quando noi vediamo piangere i portatori alla fine della processione dei misteri, non ci dobbiamo meravigliare perché si scarica un'adrenalina in quel momento e si crea un'energia davvero pazzesca ed è una cosa bellissima. Naturalmente il carattere religioso delle processioni implica anche una grande attenzione a come si svolgono. Perché? Perché la modalità con cui si svolge una processione deve in qualche modo corrispondere a quello che la processione vuole dire da un punto di vista salvifico. Ecco allora che il controllo del rito sia nella liturgia ufficiale che in quella che poi noi cristiani chiamiamo pietà popolare è fondamentale perché ne va della stessa identità, dello stesso messaggio potremmo dire che deve partire dalla processione. Anche nell'antichità era così, per esempio i misteri cosiddetti le usini, c'era una famiglia sacerdotale degli omolpidi che teneva il segreto di questi riti e di questi racconti. Questo ci dice com'è tutto questo importante. Anche ecco con il cristianesimo le processioni sono legate naturalmente alla rivelazione cristiana, quindi ai Vangeli e capiamo quindi che esiste una forte dialettica, a volte non sempre come dire pacifica, tra quello che per esempio sono i riti della liturgia ufficiale della Chiesa e quelle che sono le processioni o le sacre rappresentazioni della pietà popolare. In fondo a Trapani spesso discutiamo di queste cose e in questi anni si è fatto un lavoro meraviglioso per raccordare, si è arrivati veramente a una grande armonizzazione, tra quello che sono i riti ufficiali della Settimana Santa e del Triduo Pasquale, pensiamo per esempio a come si è armonizzato bene l'adorazione della croce, che è un rito liturgico del Venerdì Santo, con la scinnuta du Signore, che prima era Santa Maria Gesù, ma penso tornerà sicuramente lì, e che ora vengono raccordati perfettamente per arrivare poi alla sagra rappresentazione della processione. Ecco allora che entriamo a questo punto nelle processioni della Settimana Santa. Sono antichissime, le troviamo addirittura nel IV secolo. La pellegrina Egeria racconta nel suo diario di viaggio in Terra Santa di queste processioni, però c'era, ecco, in queste processioni del IV secolo solo le processioni, poi ci si fermava e si ascoltava il Vangelo, poi si camminava ancora, cioè il racconto e diciamo così la processione erano staccati. La processione dei misteri di Trapani raccorda perfettamente quello che è il racconto evangelico con la processione, alla luce di che cosa? Di tutta una grande storia che parte praticamente dalla scrittura stessa, passa per il Medioevo e in particolare per le processioni dei flagellanti e per il teatro sacro del Medioevo, per, attraverso poi il concilio di Trento, la riforma tridentina che, come vedremo, sarà realizzata soprattutto dal cardinale Borromeo. Allora cerchiamo di capire questo raccordo tra il racconto e quello che poi sarà il rito e la sacra rappresentazione. Il segreto è la parola mistero. La parola mistero per il cristianesimo è una cosa che già si sa. Mentre nei misteri pagani c'era il senso della segretezza, tant'è che il Libro della Sapienza è feroce nei confronti di questi misteri pagani, per intenderci i misteri di Iside, Osiride, Serapione, Mitra e soprattutto nelle grandi città come Efeso, Colossi e come anche nella stessa Roma. Il Libro della Sapienza condanna questi misteri segreti, li chiama anche banchetti orgiastici di strani riti. Ecco, perché la parola misterion, da muo, significa sto in silenzio, faccio silenzio, quindi c'è questo significato originario. Ma Paolo cosa dice? C'era questo mistero, ma questo mistero era il piano salvifico di Dio, ma questo mistero ora è stato rivelato. In diverse parti Paolo dice grande è il mistero che ci è stato rivelato. Questo mistero è grande, per esempio lo dice nella lettera agli Efesini al capitolo quinto, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi il cristianesimo svela il mistero nascosto. Qual era il mistero nascosto? Era che il padre doveva mandare il figlio. Era Gesù Cristo il mistero. Lui è il grande primo mistero della fede cristiana, ma un mistero rivelato. La prova ce l'abbiamo nella liturgia, la liturgia stabilisce sempre la verità teologica delle cose. Quando noi durante la messa diciamo mistero della fede, mica diciamo boh, che ne so, non lo so, facciamo silenzio. No, noi addirittura solennemente, è il momento più solenne quasi di tutto il rito, diciamo annunciamo la tua morte signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Altro che silenzio è mistero, misterioso. È proprio una cosa anziché si vuole proclamare, si vuole annunciare a tutti. Quindi questa è una cosa davvero fondamentale da capire. Quindi Paolo corregge il senso della segretezza nel senso invece della rivelazione. Tutto è stato rivelato. Naturalmente quando questa parola mysterion greca passa nel mondo latino diventa misterium e sacramentum. Guarda un po', i sacramenti vengono da lì perché sono la realizzazione del piano salvifico di Dio nella vita dei battezzati, con la nascita, il battesimo, poi la cresima, il mangiare insieme, l'eucaristia, l'ordine sacro, se sei ammalato l'arunzione dei malati, se hai peccato la confessione, eccetera. Sono i grandi sacramenti. Mentre i misteri, la parola misterium, venne a rappresentare semplicemente il racconto di alcuni episodi del Vangelo. L'altro va l'abbiamo per esempio nei misteri del Rosario. Mi pare c'era Salvatore Accardio che diceva il riferimento ai misteri dolorosi, ma il riferimento a tutti i misteri, cioè i misteri del Rosario, gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Cosa sono? Il dipanarsi dei vari episodi, dei vari misteri della vita di Cristo, che è il grande mistero che è stato rivelato. A questo punto, questo mistero, come viene rappresentato? Visto che sono gli episodi della vita del Vangelo, ecco, come possono essere portati i sacramenti? Abbiamo detto sacramentum, ma i misteri, anche se solo il sacramento dell'eucaristia viene chiamato anche mistero, qualche volta dei padri. Infatti lo chiamano il più grande dei misteri. Lo capiamo perché a volte all'inizio della celebrazione il sacerdote cosa dice? Cari fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciano i nostri peccati, ma lo dice il riferimento solo all'eucaristia. Ma tolto questo, la parola misteri, ecco, che sia chiaro, dice episodi del Vangelo, come i misteri del Rosario. Questi misteri cominciarono ad essere rappresentati inizialmente nelle chiese, per esempio in secondo due modalità, uno che era legato più alla risurrezione, per esempio nelle chiese monastiche, siamo attorno al decimo secolo credo, c'era un cosiddetto rito che si chiama Quainqueritis, in cui i monaci stessi per esempio facevano, si rappresentavano loro stessi la scena dell'angelo e delle tre marie al sepolcro. Ma soprattutto il racconto della passione è quello che interessa, diciamo così, il popolo di Dio, che comincia anche nelle chiese a rappresentare proprio questi episodi della passione di Cristo. Abbiamo per esempio l'ufficio cosiddetto del quarto soldato, nel manoscritto di Sulmona, in cui ci sono già dei personaggi che memorizzano delle parti e le recino, ma c'erano anche delle processioni, quelle dei flagellanti, come dicevo prima, o dei disciplinati che usavano la disciplina, la frusta, per autoinfliggersi delle pene corporali. Queste processioni uscivano per esempio anche da alcune chiese, una di queste forme sarà quella di Genova, le cosiddette casazze, da dove uscivano appunto queste processioni. Ma i misteri, c'è il racconto degli episodi della passione di Cristo, avveniva anche attraverso i cosiddetti laudari della passione, centrati soprattutto attorno alla figura dell'addolorata. Chi non conosce il laudario di Jacopone da Todi, no? Donna de Paradiso, Lotto figliolo è preso, che è una drammatizzazione appunto del momento della cattura di Gesù e della sua crocifissione. Quindi questi misteri, ad un certo punto però, da dentro le chiese, passarono all'esterno delle chiese e diventarono che cosa? Teatro. I misteri furono, prima che essere processioni, delle rappresentazioni teatrali all'aperto, nel sagrato, potremmo dire, delle chiese. Purtroppo però, dentro queste rappresentazioni, si insinuò purtroppo il tema cortese, giullaresco, è quello che troviamo per esempio nella ripresentazione moderna che poi, se ricordate, fece Dario Fo, mistero buffo, non so se vi dice niente, ecco questo teatro di Dario Fo, in forma anche anticlericale, ecco, anche quasi parodistica. Perché effettivamente il pericolo c'era che questo elemento si introducesse. Soprattutto il teatro, essendo fatto da persone diciamo così vive che parlano, poteva anche in qualche modo essere, come dire, colpito dall'ironia, dalla parodia, a volte anche dagli errori o da situazioni o fatti che potevano essere uno starnuto, un singhiozzo, che dall'aspetto drammatico facevano passare immediatamente al comico. Con il Medioevo questo aspetto teatrale si attutisce perché poi entriamo nella fase del Rinascimento. Dobbiamo aspettare, come dire, il Cinquecento, il cosiddetto manierismo, quindi il post-Rinascimento, per riprendere queste tematiche legate ai misteri della Passione di Cristo. Con l'influsso stavolta di un'altra forma di teatro che nel Rinascimento si era molto sviluppato e che era il Teatro di Seneca, un teatro fortemente violento, truculente, in cui l'elemento del sangue era molto forte e che venne applicato ora nuovamente al racconto degli episodi della Passione di Cristo. Forse vi sto stancando, è una cosa un po' tecnica stasera, ma rimane, spero, se rimane magari può essere sempre consumabile. Ecco, nella seconda metà del Cinquecento, soprattutto dopo il concilio di Trento, questo elemento teatrale, tipicamente barocco, ancora manieristico, ma poi diventerà barocco, riprende. A chi fu affidato il compito di ridolare, in un certo senso, l'aspetto dell'arte, delle immagini, delle rappresentazioni, fu affidato soprattutto al cardinale Paleotti di Bologna, ma in particolar un altro cardinale più famoso, che è quello di Milano, il cardinale Borromeo. Si riprendevano gli elementi della retorica classica che appunto presentava il teatro senecano, ma che si trovavano in Cicerone. Secondo Cicerone l'opera d'arte cosa deve fare? Dilectare, cioè un piacere, dilettare. Deve docere, cioè insegnare, deve anche muovere, cioè deve anche commuovere. Ecco, col concilio di Trento cosa si disse in opposizione al razionalismo protestante? No, noi con l'arte dobbiamo soprattutto smuovere i cuori, dobbiamo far commuovere, perché la passione di Cristo non è che è una riflessione intellettuale, è una commozione, è vivere veramente la grande partecipazione emotiva a quello che lui ha vissuto. Ecco, Cristo afflitto, sanguinoso, pieno di sputi, depelato, piagato, deformato, livido, brutto, questo diceva Gilio da Fabriano, questo bisogna portare in un certo senso anche nella rappresentazione degli episodi della passione di Cristo. A Milano avviene questa prima grande riforma, cioè a dire cosa fa il cardinale Borromeo? Trasforma, diciamo così, l'idea del teatro in gruppi statuari fissi e crea quel capolavoro che sono tutti i gruppi statuari del Sacromonte di Varallo. Ma avviene a Milano un prodromo, un anticipo di quello che poi i gesuiti faranno a Trapani. Stavolta saranno i Barnabiti, in particolare un capo dei Barnabiti che si chiama Carlo Bascapè che per conto del cardinale Borromeo avrà il compito di organizzare una processione dei misteri di Milano. Sentiamo, siamo quasi sul finire, il racconto del biografo di questo Carlo Bascapè che poi diventerà Vescovo di Novara. Si chiama Innocenzo Chiesa e dice, bella e nobile e numerosa fu principalmente la processione che Carlo Bascapè divisò per la notte del Venerdì Santo, poiché egli ordinò 27 misteri, 27 misteri, quindi i mestieri non c'entrano niente, 27 misteri della passione di Cristo Signor Nostro di statue di giusta grandezza in rilievo portate da chierici secolari vestiti con cotte bianche. Quindi portavano ciascuno una statua e mimavano, rappresentavano gli episodi della passione. Chiaramente i siciliani hanno fatto di più e a Trapani abbiamo fatto addirittura di meglio. Perché? Perché abbiamo assemblato queste statue in veri e propri gruppi che si condensano all'interno di una stessa vara, diciamo così. Naturalmente l'abbiamo dovuta alleggerire e ci siamo inventati il legno, tela e colla. Guarda un po', ci abbiamo fatto una cosa incredibile, non solo abbiamo ripreso il teatro medievale, ci abbiamo messo tutti i contenuti del mistero Paolino, ma abbiamo seguito il concilio di Trento e abbiamo anche inventato una nuova forma artistica. Cioè è stata una cosa straordinaria, cioè quella che è accaduta a Trapani. L'elemento liturgico, l'elemento devozionale si sono fusi in una maniera perfetta. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo e lo dico veramente con grande entusiasmo perché l'operazione che i Barnabiti fecero a Milano, i Gesuiti fecero a Trapani, certamente è riuscita a Trapani, sicuramente alla perfezione. Tant'è che questa procedzione è arrivata ai nostri giorni. Ora io mi devo fermare perché siamo già ai 15 minuti. Chiaramente non mi posso addentrare in quella che è stata poi la dinamica della processione di Trapani, cioè le confraternite. Di questo io ho già parlato in una intervista che mi ha fatto Marco Fodale, se si vuole su YouTube si può anche trovare. A me interessava stasera, così in questo clima purtroppo ancora di quarantena che si sta svolgendo, dire appunto come dal mistero di Cristo si sia arrivata ai misteri e attraverso il teatro poi medievale e la riforma tridentina e post-tridentina si sia arrivata alla formazione della processione così come l'abbiamo oggi a Trapani. A questo punto cosa potrei dire? Potrei dire che come ci sono i misteri della passione, chissà che un giorno non si creino i misteri della risurezione, perché una delle grosse lamentele, diciamocelo pure, quella sempre che tutti i vescovi poi di solito giustamente fanno, è che c'è una sproporzione tra tutta la presenza del popolo ai misteri della passione e poi alla celebrazione del mistero della risurrezione, un po' meno partecipazione. Certo non potremmo fare venti gruppi, io una volta ci avevo scherzato un po', mi avevo inventato proprio tutta una serie di gruppi statuari della risurrezione, faccio un esempio, tipo che so, le tre marie al sepolcro, le guardie romane al sepolcro vuoto, l'apparizione di Gesù alla Vergine Maria, insomma venti ne avevo, la corsa di Piero e Giovanni al sepolcro di Gesù, me ne erano inventati venti, pur non essendo gesuita, guardate un po', mi ero messo a progettare un'altra grandissima processione dei misteri a Trapani, no, una ci basta, facciamola bene e facciamola vivere a tutti nella maniera giusta. Speriamo il prossimo anno veramente con tutta la partecipazione e l'emozione di cui abbiamo bisogno di scaricare in una grande catarsi tutta la tensione che stiamo accumulando in questo periodo così difficile del coronavirus. Vi vorrei salutare a questo punto, ringraziare per l'attenzione che avete avuto e permettermi di dire una cosa, lo so che va a dirlo, domani praticamente si sblocca un po' una situazione, potremo più uscire un po', farci delle passate eccetera, però siamo veramente attenti, anche se in Sicilia e a Trapani non c'è, grazie a Dio, la fatica del contagio provocata al nord. Non dobbiamo però, come dire, fare torto alla buona sorte, quindi cerchiamo di essere prudenti per rispetto a noi stessi e per rispetto a chi invece questa fortuna non l'ha avuta e sta soffrendo parecchio. Io vi ringrazio della vostra attenzione, vi auguro una buona serata, una buona settimana. Alla prossima, arrivederci a tutti. Grazie a tutti.